Benvenuti su iPhoneItaliaVideo.com Oggi vi presenterò JohnNote Pro, un'applicazione in grado di trasformare le nostre fotografie in pagine formato quindi fax, diciamo che è una sottoforma di scanner infatti noi non dovremo fare altro che andare a fare tranquillamente una foto con la nostra fotocamera integrata dell'iPhone e una volta fatta la fotografia non dovremo fare altro che utilizzarla per poi quindi scannerizzarla con il nostro dispositivo come potete vedere una volta selezionata la foto l'applicazione ci farà scegliere la parte da selezionare e quindi la parte che poi successivamente verrà scannerizzata di questa fotografia una volta selezionata la parte che tra l'altro ci viene anche aiutata grazie a uno zoom su ogni nostro tap quindi come potete vedere la precisione della scannerizzazione poi sarà molto molto precisa e una volta fatto tutto ciò non dovremo fare altro che schiacciare il tasto processo in pochi secondi l'applicazione rielaborerà la nostra immagine e quindi poi ce la trasformerà definitivamente in un documento quindi inviabile tramite mail oppure anche tramite fax infatti potremo quindi formare una fax page e cercare quindi il numero di fax magari e inviarlo appunto al nostro destinatario e poi in più avremo anche la possibilità di quindi inviarlo tramite mail oppure di inserirlo nei vari dispositivi tipo google docs, dropbox e via dicendo è un'applicazione veramente molto carina e la consiglio vivamente a tutti i miei amici di iphoneitaliavideo.com un saluto